settimana santa vicini a gesù con maria valtorta il testo è tratto dall'evangelo come mi è stato rivelato di maria valtorta edito dal centro editoriale valtortiano capitolo 596.6 mercoledì santo lobolo della vedova 19 giugno 1944 solo oggi e con insistenza vedo apparire la seguente visione sul principio non vedo che cortili e porticati che riconosco essere del tempio e gesù che sembra un imperatore tanto e solenne nel suo abito rosso vivo e manto pure rosso più cupo appoggiato ad una enorme colonna quadrata e sostiene un arco del portico mi guarda fissamente mi perdo a guardarlo beandomi di lui e da due giorni non vedevo e non udivo la visione dura così per lungo tempo e finché dura così non la scrivo perché è gioia mia ma ora che vedo animarsi la scena comprendo che vi è dell'altro e scrivo il luogo si va impiendo di gente che va e viene in ogni senso vi sono sacerdoti e fedeli uomini donne e bambini chi passeggia chi fermo ascolta i dottori chi si dirige trascinando agnellini o portando colombi presso altri luoghi forse di sacrificio gesù sta appoggiato alla sua colonna e guarda non parla anche due volte che è stato interrogato dagli apostoli ha fatto cenno di no ma non ha parlato è attentissimo ad osservare e dall'espressione pare stia giudicando chi guarda il suo occhio e tutto il volto mi ricorda l'aspetto che gli ho visto nella visione del paradiso quando giudicava le anime nel giudizio particolare ora naturalmente è gesù uomo lassù era gesù glorioso perciò più ancora imponente ma la mutabilità del volto che osserva fissamente è uguale è serio scrutatore ma se delle volte è di una severità da far tremare il più sfacciato delle volte è anche così dolce di una mestizia sorridente che pare carezzi con lo sguardo pare non ho da nulla ma deve ascoltare tutto perché quando da un gruppo lontano parecchi metri raccolto intorno ad un dottore si alza una voce nasale che proclama più di ogni altro comando è valido questo quanto è per il tempio al tempio vada il tempio è al di sopra del padre e della madre e se alcuno vuole dare alla gloria del signore ogni che che gli avanza lo può fare e ne sarà benedetto poiché non vi è sangue né affetto superiore al tempio Gesù gira lentamente la testa in quella direzione e guarda con un che che non vorrei fosse rivolto a me pare guardi in generale ma quando un vecchietto tremolante si accinge a salire i cinque scalini di una specie di terrazza che è prossima a Gesù e che pare conduca ad un altro cortile più interno e punta il bastoncello e quasi cade inciampando nella veste Gesù allunga il suo lungo braccio e l'afferra e lo sorregge né lo lascia sinché lo vede insicuro il vecchietto alza la testa grinzosa e guarda il suo alto salvatore e mormora una parola di benedizione e Gesù gli sorride e lo carezza sulla testa semicalva poi torna contro la sua colonna e se ne stacca ancora una volta per rialzare un bambino che scivola dalla mano della madre e cade bocconi proprio ai suoi piedi piangendo contro il primo scalino lo alza lo carezza lo consola la madre confusa ringrazia Gesù sorride anche a lei alla quale riconsegna il piccolo ma non sorride quando passa un tronfio fariseo e neppure quando passano in gruppo degli scribi e altri che non so chi siano questo gruppo saluta con grande sbracciarsi e inchinarsi Gesù li guarda così fissamente e pare li perfori e saluta ma senza espansione è severo anche ad un sacerdote che passa e deve essere un pezzo grosso perché la folla fa largo e saluta e lui passa tronfio come un pavone Gesù dà un lungo sguardo uno sguardo tale che colui eppure è pieno di superbia chi n'ha il capo non saluta ma non resiste allo sguardo di Gesù Gesù cessa di guardarlo per osservare una povera donnetta vestita di marrone scuro che sale vergognosa ai gradini e va verso una parete in cui sono come delle teste di leone o simili bestie a bocca aperta molti vanno a quella volta ma Gesù pareva non aver fatto caso a loro ora invece segue il cammino della donnetta il suo occhio la guarda pietoso e si fa dolce dolce quando la vede stendere una mano e gettare nella bocca di pietra di uno di quei leoni qualche cosa e quando la donnetta nel ritirarsi gli passa vicino dice per il primo la pace a te donna quella stupita alza il capo e resta interdetta la pace a te ripete Gesù va che l'altissimo ti benedice quella poveretta resta estatica poi mormora un saluto e va ella è felice nella sua infelicità dice Gesù uscendo dal suo silenzio ora è felice perché la benedizione di Dio la accompagna udite amici e voi che mi siate intorno vedete quella donna non è felice non ha dato che due spiccioli tanto che non basta a comperare il pasto di un passero tenuto in gabbia eppure ha dato più di tutti quanti hanno da quando si è aperto il tempio all'aurora versato il loro ogolo al tesoro del tempio udite ho visto ricchi in gran numero mettere in quelle bocche sostanze capaci di sfamare costei per un anno e di rivestire la sua povertà che è decente solo perché è pulita ho visto ricchi mettere con visibile soddisfazione là dentro somme che avrebbero potuto sfamare i poveri della città santa per uno e più giorni e far loro benedire il Signore ma in verità vi dico che nessuno ha dato più di costei il suo ogolo è carità l'altro non è il suo è generosità l'altro non è il suo è sacrificio l'altro non è oggi quella donna non mangerà poiché non ha più nulla prima dovrà lavorare per mercede per poter dare un pane alla sua fame dietro a lei non vi sono ricchezze non vi sono parenti che guadagnino per lei ella è sola Dio le ha levato parenti marito e figli le ha levato quel poco bene che essi le avevano lasciato e più che Dio glielo hanno levato gli uomini questo quegli uomini che ora con grandi gesti vedete continuano a gettare là dentro il loro superfluo di cui molto è estorto con usura dalle povere mani di chi è debole e affame essi dicono che non c'è sangue e affetto superiore al tempio e così insegnano a non amare il prossimo loro io vi dico che sopra al tempio è l'amore la legge di Dio è amore e non ama chi non ha pietà per il prossimo il denaro superfluo il denaro infangato dall'usura dall'astio dalla durezza dall'ipocrisia non canta la lode a Dio e non attira sul donatore la benedizione celeste Dio lo ripudia impingua queste casse ma non è oro per l'incenso è fango che vi sommerge o ministri che non servite Dio ma il vostro interesse ma è laccio che vi strozza o dottori che insegnate una dottrina vostra ma è veleno che vi corrode quel resto d'anima o farisei che ancora avete Dio non vuole ciò che avanzo non siate caini Dio non vuole ciò che è frutto di durezza Dio non vuole ciò che alzando voce di pianto dice dovevo sfamare un affamato ma gli sono stato negato per far pompa qua dentro dovevo aiutare un vecchio padre una madre cadente e sono stato negato perché l'aiuto non sarebbe stato noto al mondo ed io devo suonare il mio squillo perché il mondo veda il donatore no ma quello ma quello che è sangue nostro bisogna dargli amando soffrire per lui soffrire non far soffrire e se dare molto costa perché spogliarsi delle ricchezze spiace e il tesoro e il tesoro è il cuore dell'uomo vizioso di natura è proprio perché costa che dare bisogna per giustizia poiché tutto quanto sia sia per bontà di Dio per amore perché è prova d'amore amare il sacrificio per dare gioia a chi si ama soffrire per offrire ma soffrire non far soffrire ripeto perché il secondo comando dice ama il tuo prossimo come te stesso e la legge specifica che dopo Dio i genitori sono il prossimo cui è obbligo dare onore e aiuto onde in verità vi dico che quella povera donna ha compreso la legge meglio dei sapienti ed è giustificata più di ogni altro e benedetta poiché nella sua povertà ha dato a Dio tutto mentre voi date ciò che vi supera e lo date per crescere nella stima degli uomini lo so che mi odiate perché parlo così ma finché questa bocca potrà parlare parlerà in tal modo unite il vostro odio per me al disprezzo per la poverella che io l'odo ma non crediate di fare di queste due pietre doppio piedistallo alla vostra superbia saranno la macina che vi stritolerà andiamo lasciamo che le vipere si mordano aumentando il loro veleno chi è puro buono umile contrito e vuole conoscere il vero volto di Dio mi segua grazie a tutti grazie a tutti